Allora, buongiorno, benvenuti. L'incontro con Oliver Stone, come ben potete immaginare, è uno dei momenti principali di questa edizione del festival, anzi proprio diciamo la famosa ciliegia sulla torta, la fine della manifestazione stessa. Inviterei tutti a prendere posto e questo incontro è stato reso possibile proprio dalla collaborazione di tutto il sistema cinema torinese, del Museo del Cinema che oggi consegnerà la Stella della Mole al nostro ospite, della Film Commission che ha creato proprio il contatto con Stefano Buono, con la sua società, con Andrea Romeo che distribuisce i film di Oliver Stone con la sua I Wonder e quindi tutte queste forze convergono, come è giusto che sia, nel Torino Film Festival proprio per questa occasione. Insieme a me ci sono Bertrice Borgia che presiede la Film Commission, oltre alla bravissima Anna Ribotta che traduce, e David Greco che come sapete senza il quale non riesco a parlare in pubblico perché mi intimidisco. Allora, io darei subito la parola a Bertrice Borgia perché appunto è a lei che si deve in gran parte la realizzazione di questo bellissimo momento. Grazie Steve, è un onore darvi il benvenuto in questa masterclass esclusiva con appunto il leggendario regista Oliver Stone, in qualità di presidente della Film Commission Torino-Piemonte e sia un piacere che è un onore aver potuto contribuire a questo evento importante. Il ruolo della Film Commission è quello di favorire, sostenere, far crescere quella che è l'industria cinematografica nel nostro territorio, cercando di rendere Torino e il Piemonte un centro cardine per il cinema. Quindi la masterclass di oggi e la presenza di Oliver Stone è proprio una testimonianza del nostro impegno in questo senso, nel nostro impegno nel portare talenti sempre di più appunto nel nostro territorio e creando anche opportunità uniche di scambio culturale e un arricchimento artistico. Mi unisco a questa impresa Steve, insomma gli ospiti che vedete qui con me, che è un esperto nel mondo del cinema. Io a differenza sua non sono un'esperta, quindi consentitemi questa presenza e ringrazio Steve per avermi concesso di condurre questa masterclass con lui. La nostra collaborazione con Nucleo, che è l'azienda, insomma adesso vedo qui diversi esponenti di nucleo e l'amico, nonché l'imprenditore pazzesco Stefano Buono, una società torinese di energia nucleare, devo dire ha aggiunto un elemento estremamente affascinante alla discussione odierna. Abbiamo lavorato a stretto contatto appunto per cercare di far sì che potesse avvenire il tour di Nuclear Now in Italia e abbiamo fortemente voluto portarlo all'interno del nostro eccellente Film Festival. E questo è proprio secondo me un esempio interessantissimo del nostro impegno nell'esplorare quella che è un'intersezione tra cinema, tecnologie, questioni sociali e un impegno comune a far crescere il nostro territorio. E oggi appunto vedremo anche quello che il cinema a volte rappresenta proprio, si pone come narrazione per aprire e per parlare di sfide globali come quello che sarà Nuclear Now. Adesso senza appunto prendere troppo tempo in modo tale da poter iniziare con la nostra masterclass, ringrazio Steve ancora una volta per avermi permesso di condurre questa masterclass e Oliver Stone per unirsi a noi in questa chiacchiera. Grazie a tutti. Fai tu la prima domanda, Beatrice? Fado io? Spero di fare una domanda interessante per il nostro ospite. Io partirei dalla tua autobiografia, Chasing the Light, Cercando la luce, adesso qua c'è la parte, la versione italiana, che ho avuto il piacere di leggere ultimamente, insomma, sapendo che ti avrei intervistato ho avuto modo di leggerlo. E descrive i tuoi primi passi nell'industria cinematografica, narra le tue esperienze, io non lo sapevo, non so quanti di voi lo sapessero, come soldato in Vietnam. La passione per il cinema e le sfide affrontate nel cercare di affermarti a Hollywood. Ecco, la domanda è come queste sfide hanno plasmato il tuo approccio alla cinematografia e influenzato il tuo impegno alla narrazione. I can keep my answers short, if most of you don't speak English, or... I'll be translating anyway, so... But otherwise, I can make it a little more specific, if you can understand English. So, could you raise your hand if you understand English? Chi di voi capisce l'inglese? Oh, okay. Well, I see quite a bit of you do. I would say the majority, so I will speak a little longer, then. As to the book, the memoir, which covers the first 40 years of my life, I'm working on the second part now. And the third, perhaps? I told you last night. Yeah. I can tell you more if you want. Yeah, totally. But you'd have to... Privately. Listen, where is the beginning? The theme of this first book is lies. The lies my parents told me. My parents become the beginning of the story. For me, it's about their divorce. Because the first 15 years are almost like fantasy years. Innocence. Very much so. Innocence in the Garden of Eden. And the divorce was very brutal and sudden. And led me... It was a small family. Just I was the only child. So it split up. It tore. The fabric tore apart. And that was rough. And pretty soon I was in Vietnam as a... First time. As a teacher. And then as a merchant sailor. And then another... This is an earlier time. And came back with many stories. Wanted to be a novelist. I dropped out of Yale. First of all, before I went to Vietnam. I dropped out of Yale after a year. And then I went back. I was in the class with George Bush. Actually. Yeah, I know. Which is kind of weird. A lot of very famous Americans now were in that class. And went back to... The book was very raw. It came out in 1997. It was called The Child's Night Dream. It was published in Italy, too. And I went back to Vietnam when it was rejected. It was not published until 1997. And I went back as a soldier. And then again, you see here in this first formative years before I'm 20 years old. 21 years old from the lies are my parents' marriage. She's a lie. Very interesting one. A lot of adultery. You know, typical story, but both sides. And then the second big lie I run is Vietnam, which turns out to be, for me, quite a shock as to who's telling the truth, because I hear one side at the beginning, the American side. And, of course, I go over there, and I see another side of the war completely as a foot soldier. Not as an officer, as a foot soldier. Very important to be at the bottom level. And then after the war, many lies are told about it. The biggest lie is that we're winning the war. That we're winning the war, which is nonsense. We're not winning the war. We never were. And then the other thing is that, you know, we're killing civilians. And the other thing would be, the third lie would be that we're killing ourselves. There was a lot of friendly fire. Friendly fire is when your own troops fire on yourself. You get killed by your own men who don't know how to shoot straighter. They panic, and they shoot you in the back. I believe one of my two wounds was from friendly fire. And then, of course, during that whole period, the first thing I, when my parents were divorcing, was the same year that Mr. Kennedy was killed. I went along with the story. It was another, in my opinion, a big lie. A big, big lie. And some stupid reporters always said that I was screwed up by my parents' divorce, and therefore I believed that Kennedy was killed because my parents' divorce. I mean, it's like that. But the point was that I didn't find out about Kennedy until many years later. But we all went along with a lie at that time, most of us. And he was buried, and it was all very ridiculous crime. We accepted the story. It was out of a movie or something, that story. And it fit, you know, it fit the pattern. It was a far more dangerous, heinous crime than we knew at the time, with very strong implications that tied it to Vietnam. We didn't know that. We did not know that Mr. Kennedy was trying to get out of Vietnam, that Mr. Johnson, who took his place, completely opposite to Kennedy, committed himself entirely to that war in a big, big way. A lot of other things were going on. We found out later, and that was part of my growth. So finding out about the lie is very important to my life, which brings me to the latest. If you follow my work, it's all through there. Snowden is a big story about exposure of American surveillance of its citizens. Very shocking stuff. There's all kinds of stories. I don't want to go into all the movies, but the latest documentary is about nuclear energy. And, of course, many people have superstitious and fearful ideas of what nuclear energy is. And it's interesting to go into the subject and find out what it is. And what it is is quite different than what I was told. I was part of that 1970s generation that followed Ralph Nader and Jane Fonda and Bruce Springsteen, who they told us nuclear energy is no good. And as a result, we were on the path to a nuclear energy in America, but we didn't continue on it. So we left off at about 20 percent of our energy came from nuclear. And it's worked for 70 years. It worked well. And it's cheap and efficient. At the same time, very effective in terms of we're not using fossil fuel, and that's the most important thing. However, France continued. France continued on to about 75 percent usage of energy. I'm not going to overdo it. Better, yeah. Allora, la mia autobiografia di fatto si basa sui primi vent'anni della mia vita. Sto scrivendo una seconda parte. E l'inizio della mia vita è stato costellato da tantissime bugie, a partire da quella che mi hanno in qualche modo raccontato i miei genitori. La storia comincia con il loro divorzio. Io ho trascorso un'infanzia e un'adolescenza in un mondo assolutamente innocente, nel paradiso terrestre su terra, un mondo fantastico, fino al giorno in cui la mia famiglia, che era composta semplicemente dai miei genitori e da me, è andata in pezzi. Ed è stato un colpo durissimo per me. La seconda bugia è stata quella del Vietnam, dove sono andata una prima volta come insegnante e poi come marinaio a bordo di un mercantile. E da quel primo viaggio in Vietnam sono tornato con tantissime storie, tant'è che all'inizio ho pensato di fare il romanziere. Un anno prima di partire per il Vietnam avevo già abbandonato gli studi all'università di Yale, dove peraltro ero in classe con Bush e con tanti altri americani che sono nel corso degli anni diventati molto famosi. E avevo già pubblicato tutto questo, c'è già in una prima versione della mia autobiografia, che si intitola appunto Il sogno di un bambino nel 97, ed era uscito anche in Italia. Quindi prima ancora che io raggiungessi la maggior età, prima dei vent'anni, mi erano già state raccontate tantissime bugie. Appunto i miei genitori, il loro matrimonio, che ho scoperto poi in seguito a essere costellato da adulterio da entrambe le parti. La seconda grande bugia, quella che veramente è stata uno shock per me è stata quella del Vietnam, perché naturalmente a me era stata, in quanto americano, era stata presentata una verità che era la motivazione che aveva spinto l'America a scendere in guerra nel Vietnam. Ma quando poi io ci sono tornato a quel punto come soldato di fanteria, e quindi a livello della terra e delle bombe, la realtà che ho scoperto è stata completamente diversa. È stata una bugia spaventosa. E la seconda bugia, in qualche modo, promossa dagli americani, era quella che noi avremmo vinto la guerra, quando in realtà ci siamo trovati a uccidere tanta popolazione civile e anche a uccidere noi stessi. Perché quando mandi dei soldati non preparati a combattere in una guerra, spesso cadono vittime l'un l'altro del fuoco amico, perché non destreggiano bene le armi e ci si spara alle spalle. Una delle due ferite che io ho sul mio corpo è appunto dovuta al fuoco amico. E poi l'altra bugia ha circondato il personaggio di John Fitzgerald Kennedy, che di fatto è stato ucciso l'anno del divorzio dei miei genitori. Qualche giornalista a un certo punto ha detto che io sono rimasto così scioccato dal divorzio dei miei genitori che ho elaborato tutte le mie teorie sull'assassinio di JFK. In realtà ho tentato di far luce su una verità che hanno cercato di occultare in tutti i modi, fornendole delle versioni assolutamente ridicole su quell'omicidio. E purtroppo la diffusione di queste versioni ha avuto delle implicazioni estremamente pericolose. Di fatto JFK voleva ritirare gli Stati Uniti dal Vietnam e quando poi è stato assassinato abbiamo visto che invece Johnson ha continuato questo conflitto. E via via la mia carriera è stata in qualche modo di cineasta, è stata costellata dal tentativo di far luce su delle menzogne che io intuivo essere tali andare a scavare la verità, i sistemi di sorveglianza che ormai controllano tutti noi, la situazione a Wall Street e tutte le storie che sono narrate nei miei film hanno a che vedere. Fino all'ultimo film, a questo Nuclear Now che riguarda quanta parte di noi, della mia generazione negli anni 70, ha formulato una paura del nucleare per un'informazione in qualche modo parziale e per la paura che avevamo tutti noi dell'energia nucleare e abbiamo avuto dei rappresentanti noti Jane Fonda e Blue Springs in al concerto No Nuxe e invece io realizzando questo mio ultimo film ho avuto modo di consultare degli scienziati che sostanzialmente mi hanno illustrato come il ricorso all'energia nucleare è di fatto una valida alternativa che abbiamo oggi per evitare di proseguire sulla strada del riscaldamento globale dovuto ai combustibili fossili è un tipo di energia che non costa tanto dopo il costo iniziale della costruzione dei reattori ed è molto efficace il mio paese ha interrotto la costruzione degli impianti nucleari e sono limitati ora a una piccola parte ma credo che tutti noi dovremmo in qualche modo riflettere su quello che sono state le nostre posizioni david applausi per Anna si è ricordata tutto she's amazing isn't she she translated everything so perfectly allora lo vedo molto convinto su questa cosa nucleare tra l'altro questa mattina questa mattina 20 paesi hanno chiesto di triplicare di poter triplicare il nucleare da 1 a 100 quanto è convinto? no in the film we suggest we should continue on the path with renewables and as much hydropower as possible although it's limited it's limited at the top I mean there's we've done we've exploited most of the hydropower areas but definitely keep going with renewables and keep going with the research on carbon capture and all the other stuff that we're doing but no question that nuclear will is the scientists in the film say would probably be necessary for about 50% of getting this down to carbon to zero that's the goal 2050 this is the goal that was set by the IPCC and we'd like to get it to zero which is probably not doable because you know there will always be a place for oil they'll make plastics there's all kinds of factory stuff that can be done but oil has a big role to play here the oil lobby is very powerful in America and the problem is of course gas is gas is the partner is considered the partner for the grid for renewables the problem is that gas is invisible and it's methane gas and it's very very toxic so it's complicated and getting the grids the grids in all these countries are different some have more wind some have more sun and some but we just need nuclear because not only does it provide the most volume it's the most intense form of energy a million times stronger and more intense than coal really the reason there's so limited so limited waste product is because they're so intense compared to the waste from coal from oil and gas it's just nothing comparable and that waste is not supervised that waste is thrown out into the atmosphere which is part of the problem we have with warming global warming but the other reason that nuclear is most promising is because it has so many other uses beyond heat it can be used for science for finding solutions to transportation fuels synthetic fuels heating central heating for all the cities of the world could be nuclear it has enormous other places to be besides making electricity besides making electricity sicuramente nel film viene spiegato che non basterà sicuramente l'energia nucleare deve procedere in parallelo con le rinnovabili anche se consideriamo che per esempio lo sfruttamento dell'energia idroelettrica è ormai ai massimi livelli dobbiamo continuare a trovare delle soluzioni per contrastare il surriscaldamento globale e per la cattura del carbonio sentirete nel film parlare tantissimi scienziati e se vogliamo raggiungere l'obiettivo che è stato fissato nel 2025 delle emissioni zero e quindi di interrompere l'emissione in atmosfera dell'energia dell'anidride carbonica dobbiamo assolutamente ricorrere al nucleare e nonostante ci siano forti resistenze da parte delle lobby del petrolio che per esempio negli Stati Uniti sono molto potenti il petrolio avrà sempre un utilizzo per altre lavorazioni che non sono necessariamente quelle della produzione elettrica ed energetica d'altronde propongono normalmente in alternativa o in abbinamento alle rinnovabili e l'utilizzo del gas sotto forma di metano che è estremamente tossico ed è quello che rilascia tutti gli elementi tossici che hanno portato il nostro pianeta allo stato di salute attuale ciascun paese potrà in qualche modo gestire le proprie reti elettriche sulla base della propria geografia per cui l'energia eolica l'energia solare ma c'è bisogno del nucleare perché ha un'intensità la materia di una sua intensità di partenza e un volume e una forma che in realtà può consentire appunto un utilizzo che ci permetta di sopperire al fabbisogno di tutta l'umanità e le scorie sono molto più limitate rispetto a quelle che vengono appunto messe in atmosfera dal carbone e dal e dal petrolio quindi secondo me il nucleare secondo me e secondo gli scienziati che io ho interpellato per questo film il nucleare è promettente perché non ha soltanto un impiego che può essere quello dell'energia elettrica ma può anche consentire altre forme può consentire il trasporto di combustibili sintetici per esempio ma indubbiamente potrà contribuire anche ad alimentare il teleriscaldamento nelle varie città del mondo a tantissimi utilizzi che possono essere fatti io volevo ricordare che il primo film di Oliver Stone Salvador fu presentato per la prima volta in Italia proprio qui al Torino Film Festival e quindi lo dico con orgoglio e poi vorrei fargli una domanda invece più cinematografica di quelle che mi hanno preceduto quando si pensa al cinema di Oliver Stone si pensa oltre che i contenuti alle battaglie che ha portato avanti anche molto alla musica perché la musica è molto importante dai doors ai credence insomma se oggi quel tipo di colonna sonora è ancora diffuso lo si deve molto anche ai tuoi film mi piacerebbe sapere quale musica sente adesso e se sente sempre quella o se sente anche qualcuno di quelli di oggi e come sceglie la colonna sonora dei suoi film e come sceglie e come sceglie la colonna sonora come sceglie la colonna sonora e come sceglie il film I mean, people like John Williams and Ennio Morricone and Evangelis and other artists helped me. And at the same time, on a film like Natural Born Killers we just used needle drops, any song we wanted in the universe we just picked and went after it. In those days it was a little bit more affordable than it is now. In the movie, for example, Any Given Sunday, Maledetta, I used several different composers. There was no one composer. Robbie Robertson was one. There were four different composers. So I was never, no laws, no rules. Don't want to be dictated to by one composer unless there's a reason. So I try to keep it as free as possible. That's my only answer I can. As to what I listen to, I'm corny. I like traditional stuff. I like classical music. I like jazz. I like very much ethnic music, whether it's Rasta or Calypso even. I love the old Harry Belafonte, Sinatra, the songs that are popular in the 30s and the 40s. There's very good stuff. The new stuff is very tough to get through because it's hard for me to understand the lyrics. You have to really listen and read, maybe read the lyrics to understand sometimes what's being said because it's buried underneath a lot of noise. So it's harder for me. But some of them stick out very nicely. I've used some. Does that answer your question? Oh, I'm not wild about rap. Rap is very difficult to understand. But, of course, I'm not black. I've worked with John Williams, with Ennio Morricone, Vangelis. In the case, for example, of a film like Natural Bone Killers, we were able to choose a whole series of brans pre-existent. All right, it didn't cost so car to have the rights for the use of the music. And, of course, I remember that for Every Maledetta Domenica I've worked with Robbie Robertson and other four different composers. I don't like to tell my choices by the composer, if there are no reasons for it to do it. I've always professed and wanted a great freedom. And, regarding the music that I listen to today, I'm sentimental. So I tend to listen to music traditional, classical, jazz, ethnic music, reggae, calypso. I also love the Bellafonte Sinatra, I'm musicals from the 30's and 40's. And, regarding the contemporary music, I'm tired, I'm tired because I'm tired to distinguish the words if I'm not able to read them because I feel they are a bit sommerses under a lot of rumours. And I don't like particularly rap, but I'm not a nero. Well, it's practically the sound of Radio 3, so I'm very happy. Beatrice. Here you taste myself. Sì, hai parlato prima di JFK. JFK è il film che tratta dell'assassinio del presidente JF Kennedy, un evento che è avvenuto appunto 60 anni fa, e in questo caso hai dovuto muoverti lungo una linea sottile tra accuratezza storica e destro creativo. Ecco, una domanda più professionale per te. nel dirigere film come JFK o Nuclear Now, come affronti la sfida di riportare informazioni fattuali o scientifiche con tecniche di narrazione creativa per coinvolgere il pubblico nella tua narrazione? I don't know why you bring up nuclear because it's factual, that we checked and checked and checked, and it's like untold history, frankly. it was all triple checked. You can't put out a documentary without doing that. So we have to be very careful. And of course we're dealing with scientists. And, you know, the environmentalists may not always agree, but nuclear energy is the safest, and has always been. So that's a fact. And I'll go to my grave defending it, that I don't need to have, scientists will defend it. The JFK issue is a drama. Drama is different than a documentary. I needed to condense six characters into one character, or three characters into two, or there's always reasons to, it has to be a drama that entertains, at the same time keeps the interest of people, because otherwise it's a, it becomes an investigation, that it becomes like a documentary. Now that can be done, but at two hours it's such a long story. And of course there is no historical consensus on this, unless you accept the Warren Commission. so it's really difficult to argue this case, because the Warren Commission I consider to be a fiction. It was very badly researched. Very badly. There was no real investigation done at the time, because it was not in the interests of the United States. It was not in the interests of the United States to investigate that crime. You know why? Because it would lead to revelations that would be very, very sensitive at the time, and still are. Obviously, Mr. Biden closed the files again, 60 years later. Why? Something is very sensitive there. Very sensitive. We still don't have the papers, the knowledge that we need of the CIA agents that were around the case, the Cuban connection, the Cuban connection in the United States to the right wing. We don't have that information. There's a lot of information still there, but those people are all dead. And the cover-up, as I maintain, continues, and many people can... It's just impossible to accept the Warren Commission conclusions as scientific. Impossible. So, you know, that leaves it open. I thought our film is not as crazy as people think it is. It is exactly based on a lot of facts and a lot of witnesses who never get listened to, who are not admitted to the Warren Commission. Believe me, we worked very hard, and we published a book at the time stating what we exactly did. We were not trying to hide anything. And to this day, it's haunted me because I've been attacked regularly, and it's hurt my career. It hurt my career. But it was worth it. God damn it. It was worth it because to this day, he's the best president we've had in the last 60 years because he was speaking about peace. When do we ever hear a president talk about peace anymore? I haven't heard the word. But that was a big important theme for Kennedy, peace. He wanted detente with the Soviet Union, with Cuba. He did not want to go to Vietnam. All this was become clearer and clearer with time and history. I think it's not correct to compare a film like JFK to a documentary on nuclear. The documentary on nuclear is based on facts, on precise data, which are absolutely incontrovertible. so I'm documented. And you will see that the information contained are actually the ones that gave me the science. In the case of JFK, of course, it's a narrative, of a story that is based on a part documental, but that has an elaboration in form of fiction, necessarily, because I've had to condense to create six characters in one, three in two. And I was able to make it to take a public to an investigation with elements of investigation that could also be in matter of a documentary. I could not do anything. There was still a consensus on the suicide of the president Kennedy. Warren, Warren per me è di fatto una commissione che ha prodotto un'opera di finzione, è stata condotta malamente perché non era nell'interesse degli Stati Uniti indagare e scoprire la verità perché forse se si fosse indagato in modo approfondito si sarebbe arrivati a delle rivelazioni che risulterebbero ancora sensibili oggi e sono tuttora secretate una serie di informazioni tant'è che Biden ha richiuso il caso. Ci sono degli agenti della CIA che hanno testimoniato, ci sono stati dei legami con la crisi dei missili di Cuba e la destra americana, tutta una serie di informazioni di persone che ormai sono anche in parte defunte e che comunque hanno tentato di insabbiare il più possibile la verità. Le conclusioni a cui è giunta la commissione Warren sono assolutamente inverosimili e ci sono una serie di testimonianze che non sono mai state nemmeno raccolte né ascoltate dalla commissione Warren e sono queste persone che noi siamo in qualche modo andati a cercare. È un film che mi perseguita ancora oggi perché sono stato aspramente attaccato per averlo realizzato, ha danneggiato la mia carriera ma ne è valsa la pena perché JFK è stato il presidente migliore che gli Stati Uniti hanno avuto negli ultimi 60 anni perché era l'unico che parlava realmente di pace e nessuno lo ha mai fatto da lì in poi avrebbe voluto la distensione con l'allora unione sovietica e anche con Cuba. David Oliver Stone dice che JFK ha danneggiato la sua carriera ma Oliver Stone c'è tornato anche su JFK ha fatto un documentario, ha fatto una serie cioè non è che si arrende, non si arrende mai e il suo ultimo film di finzione anche quello molto politico Snowden è del 2016 io mi chiedo se in questi anni in cui lui ha fatto dei bellissimi documentari Hollywood gli abbia sabotato i film di finzione e un'altra domanda che credo ci interessi tutti lui ha fatto un film intervista molto bello in quattro puntate con Vladimir Putin alla fine di questo documentario Vladimir Putin giura e spergiura che non attaccherà mai l'Ucraina il seguito lo conosciamo mi chiedo se lui ha una qualche idea di che cosa sia successo nel frattempo Can I explain what happened in between since that statement by Putin Aha, okay Yeah, I never give up I try not to Listen, first of all on the JFK matter it's one of the only films I know of that initiated a congressional investigation which was the Assassination Records Review Board with the JFK Records Act they were empowered these academics were empowered to subpoena people and to bring together who they wanted to talk about what they wanted to talk about and they existed from 1994 to 98 it was created by the pressure from the film from the people of the United States who wanted answers because at the end of the film we ran a legend that said these files won't be opened until 2037 or something like that 2037 was a long way away people are fed up with government secrecy they want more transparency there's a lot of top secret stuff here, a lot and unfortunately we tried and they delivered some very interesting conclusions very not so much conclusions information and the media in the United States did not report it accurately they did not report they did not make the links in the case this is a very complicated case because it is real life it is not a movie it's real life a person two people were wounded a lot of shots were fired the wounds were very complicated the whole thing is complicated frankly it would take a Sherlock Holmes who doesn't exist as a fictional character to solve this case you need to put the pieces together that takes time it takes years a fact from here a fact from there it all starts to make sense and you have to read it follow it study it this is what researchers do I'm not one of those researchers I depend on the work of researchers so we hired our own researcher James D. Eugenio who's quite extraordinary in his memory and he put together several books now and these people take it very seriously because it is a murder case and the autopsy among other things the autopsy done at Bethesda after the case which should have been done in Dallas was such a mess it was so badly done by amateurs amateurs who had never really dealt with a murder case like this where you have multiple wounds and you have very difficult circumstances because it was such a high powered case that the military got involved and they were at the autopsy and they made sure that the autopsy people there did not go further with the wounds did not penetrate and probe the wounds especially the back wound and of course there's a huge problem of the wound in the back of the head which would indicate that it came from the front and that it blew out the back of his head which is what 60 different people have now said at Parkland Hospital they saw the wound open and they saw the brains bleeding out but judging from the autopsy in Bethesda we wouldn't even know that so it's such a disconnect between the two places between Parkland and between Bethesda that's just one of the many things that do not connect in this case it's difficult difficult but the autopsy could have been done well as the president of the United States you'd give anybody who was murdered the benefit of the good investigation not in this case there was no interest in doing a real investigation so the point is that all this information comes out in bits and pieces and it's very hard to put it together we've tried and we came back to the documentary called JFK Revisited in 2019 and through the looking glass it was it was 2021 excuse me 2021 we did a lot of work on it just to tell the people who followed the case to some degree what has happened here and it's very scientific so of course it has a more limited audience but I would advise you to if you're serious about the case to look up JFK Revisited through the looking glass the two hour version there's also a four hour version for those people who really want to get into it so there's two versions two hours and four hours very proud of that so I'm following through as the best I can it's not my job it's the job of the media to do that but they don't do anything the media is awful and there's a reason to believe that it's incomplicit in this case that they never cared to find out the truth it's so it indicates a problem in my country of censorship this I think you're seeing much evidence of it now much evidence of it now and that ties into a larger issue now which is confronting us which is Ukraine people don't follow it up they don't investigate they don't know the history I did well I produced I did not direct a movie called Ukraine on Fire in 2014 the year of the coup there was a coup in Ukraine and people don't know the details and it's very interesting who was behind the coup the United States was and they supported it and it is a dirty, 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 dirty story one could say that the whole story follows makes sense if you really follow it through Ukraine has always been used by the United States back to World War II after World War II Ukraine was used by the United States because it's close to the Soviet Union and we were out to destroy the Soviet Union and that they served a purpose we sent many people many Ukrainians back to fight the Russians many of them were picked up and we never got into business against working for us but a lot of CIA activity same story here same story here if you look into the details it's a very disturbing story it seems that the as we did in Afghanistan just remember for a second Afghanistan Mr. Brzezinski those of you who are too young to remember but he was a national security advisor for Jimmy Carter after the Russians went into Afghanistan in 1979 Brzezinski two years later or something like that finally came out and said wow it was a brilliant plan we sucked the Russians in there was a plan to get them in by supporting the Mujahideen which he did extensively we in other words we wanted them to come into Afghanistan that was the reason that we supported the Mujahideen that became a problem after the war with 2000 you have to connect these things 2001 connect all these things through time same thing happens in Ukraine Ukraine becomes the objective how do you get the Soviets to make a blunder you get them to invade Ukraine makes the whole world go crazy and they're going to say look the Russians are at it again they want an empire back no it doesn't work that way it was about NATO NATO using Ukraine to enter into Russia again and this was a very difficult issue for the Russians they warned us over and over again about this they said it was a red line for them we didn't pay any attention we acted very arrogantly and we went ahead and violated every one of those red lines and then we said finally in that year before that Ukraine would be able to join NATO that was the prime point the United States made it very clear that there was no stopping because the United States wants the Russian resources it's quite a huge rich country very important so getting rid of Mr. Putin changing the leadership in Russia is a crucial policy issue for the United States it's a major objective not saving Ukraine they don't care about Ukraine they care about destroying the Russian nation that's a no that's a very serious serious war point this is we're talking about possibly the end of the world a nuclear war and the United States has prosecuted that war basically since 19 from 1943 to 1944 to about 1992 when the Soviet Union finally fell and then it resumed that war sometime in the 2000 period the neoconservative movement in the United States is very strong but very powerful very secret people don't realize the extent of power I'm just sketching the outlines of it but there is a plan here it's a serious plan and it still is going on and it's going to affect all of us but the people of the world react to the surface of events oh yeah they invaded Ukraine sure they're trying to protect themselves against what they see as a United States move again to destroy the concept of not the Soviet Union anymore communism is gone but just Russia itself and Russia itself has a hell of a lot of riches and resources that we would like to exploit and Wall Street would like to have so that's about that's the gist of it so what I'm saying your question was he didn't make he did not warn about that he just said it was a red line he never said that he was going to invade or not invade that was not an issue back in 2017 when I interviewed him 2017 so it was not an issue the problem he had there was he was worried about it very much so because they were killing Russian ethnics in Ukraine 7,000 have been reported killed maybe more this is a serious problem for him and not just for him for Russia this is a Soviet issue a Russian issue excuse me and they will defend Russia and we have no business being in that part of the world we should butt out but we're everywhere the United States continues to interfere everywhere think about how many bases the United States has all around the world think about 800 bases think about what the CIA does on a daily basis that's when you come back to start to think about reality the reality of the world the way it works always think about what the CIA is up to never discount it never it's true it's true it's true it's true it's true it's true when we made the first film on JFK it's true the Congress dell'opinione pubblica have been exercitato dal momento che JFK si chiudeva con un cartello sui titoli di coda che dichiarava che i carteggi che riguardavano l'omicidio del presidente sarebbero stati dissecretati nel 2037 e gli Stati Uniti gli americani sono veramente stanchi di tanta segretezza e hanno invocato la trasparenza hanno provato a muoversi per invitare la trasparenza alla trasparenza e le conclusioni sono state interessanti effettivamente conclusioni a cui sarebbero dovuti giungere i mezzi di informazione se avessero fatto il loro mestiere con accuratezza indubbiamente si è trattato di un caso molto complesso quello dell'omicidio di Kennedy e a partire proprio dalle ferite riportate non soltanto da lui ma anche da altre persone forse solo Sherlock Holmes peccato che sia un personaggio di finzione potrebbe mettere insieme i pezzi e arrivare a ricostruire la dinamica di quell'omicidio e quindi risalire ai responsabili io ho ingaggiato a mia volta un ricercatore per cercare di venire a capo di questa vicenda e ci siamo documentati lui si è documentato ha studiato tutta una serie di casi ha studiato come è stata condotta l'autopsia che è stato veramente un pasticcio condotta da dei dilettanti era estremamente difficile il contesto perché essendo un caso così altamente sensibile riguardando il presidente i militari erano presenti nello svolgimento dell'autopsia e hanno in qualche modo impedito che fosse svolta in modo approfondito la famosa foro del proiettile dietro alla testa rispetto alla traiettoria appunto che ha colpito il cervello fuoriuscito insomma sono stati tantissimi gli elementi che hanno davvero anche a che fare con la medicina forense e questo è stato difficile proprio perché era Kennedy ciascuno di noi ha diritto a un'indagine nel momento in cui subisce un torto non parliamo di un omicidio e qui non si è potuto mettere più di tanto insieme i pezzi è il motivo per cui io poi ho scelto appunto nel 2021 di realizzare questo documentario JFK Revisited Through the Looking Glass che se qualcuno è interessato dura due ore nella versione cinematografica c'è anche una versione di quattro perché è proprio un approfondimento rispetto a tutto quello che eravamo riusciti a scoprire noi continuando a indagare riguardo alla tua domanda sulle dichiarazioni appunto della serie di Putin su Putin io nel 2014 ho realizzato un documentario che si chiamava Ukraine on Fire e il 2014 l'anno del colpo di Stato che c'è stato in Ucraina come molti di voi probabilmente sanno non so se avete seguito ma di fatto gli Stati Uniti hanno sistematicamente usato l'Ucraina a partire dalla seconda guerra mondiale allo scopo di avere un paese prossimo all'Unione Sovietica di allora e quello che poi è stata la Russia perché è stata appunto quella l'indicazione data dai vari governi che si sono succeduti per cercare il più possibile di disturbare la Russia e la CIA si è proprio mossa in questo senso come un elemento di disturbo d'altronde voi siete più giovani di me non so se ricordate nel 79 la situazione in Afghanistan il presidente era Jimmy Carter e a capo della National Security Advisory Board c'era Biesensky e aveva elaborato il piano di attirare i russi all'interno dell'Afghanistan sostenendo i Mujahideen e la storia va letta collegando tutta una serie di punti e di fatti anche se avvengono magari in paesi diversi perché c'è una sorta di logica questa stessa logica che è stata troppo spesso applicata appunto dagli Stati Uniti era quella di posizionarsi vicino alla Russia in modo da usare l'Ucraina per persuadere Putin per persuadere la Russia a entrare in Ucraina a dichiarare guerra all'Ucraina utilizzando appunto la Nato e di fatto questo è quello che a mio modo di vedere è avvenuto con una certa arroganza che è l'arroganza che viene usata dagli Stati Uniti in politica estera e ricorderete che poco dopo il conflitto l'Ucraina ha chiesto di entrare nella Nato gli Stati Uniti vogliono tutte le risorse naturali della Russia quindi il loro intento è quello di liberarsi di Putin e riuscire in qualche modo poi ad avere una presenza nel paese è un problema molto serio che riguarda tutti noi perché un conflitto con la Russia vuol dire una guerra nucleare quindi la fine del mondo è un piano che gli Stati Uniti hanno cominciato a lavorare nel 44 l'hanno portato avanti fino al 92 poi si è interrotto e adesso con i neoconservatori che hanno un potere come voi non potete neanche immaginare che lavora comunque nel sommerso in segretezza è un piano che continuano a portare avanti ed è un piano appunto su vastissima scala nel momento in cui dovesse effettivamente essere portato a termine quindi tornando alla tua domanda alla fine di quella serie della lunga intervista Putin lui non dice che invaderà o non invaderà l'Ucraina richiama solo nel 2017 era già preoccupato allora che c'è una linea rossa che non deve essere varcata d'altronde 70.000 russi erano stati uccisi in Ucraina e noi appunto queste informazioni in qualche modo forse non le colleghiamo questi dati di fatto storici perché poi il tempo scorre di fatto noi Stati Uniti dovremmo veramente andarcene a partire dal lasciare le 800.000 basi americane che sono disseminate in tutto il mondo che sono la realtà del mondo in cui tutti noi viviamo e che la CIA ha posizionato in modo strategico Allora io credo che Oliver Stone faccia un cinema fortemente spettacolare e fortemente politico quindi il dibattito è stato sia sullo spettacolo sia sulla politica non poteva non essere così io lo ringrazio tantissimo per averci regalato quest'ora ringrazio Anna Ribotta che è stata bravissima a tradurre David Greco Beatrice Borgia che hanno fatto domande più intelligenti delle mie e tutti voi per essere stati qua grazie